buongiorno bentrovati bentornati a coffee break dunque questa mattina io voglio iniziare in una maniera un po anomala diciamo perché voglio iniziare noi di solito proviamo ad iniziare col sorriso però c'è poco da sorridere nel senso che mi viene in mente che due giorni fa dopo il suicidio di giuseppe burgarella l'operaio che si è appunto tolto la vita a trapani e che lo ricorderete io sono rimasta molto impressionata no c'era questo elenco dei disoccupati all'interno di una copia della costituzione quella storia che pure vi racconteremo perché abbiamo intervistato il fratello e poi due giorni fa di nuovo una tragedia a milano questa volta un commerciante è salito su una sedia si è messo un cappio intorno al collo e si è lasciato cadere e ha scritto sono un fallito allora io credo senza retorica che sia fallito un paese nel quale le persone perdono il lavoro e hanno la certezza di non poterne trovare un altro e quindi la loro vita finisce finisce la loro dignità do il buongiorno ai nostri ospiti buongiorno morizio sacconi già ministro del lavoro delle politiche sociali candidato per il popolo della libertà al senato in veneto è fallito il paese non credo per fortuna ancora no nel senso che io credo abbiamo un fallimento sono ci sono purtroppo diffuse situazioni di declino economico e sociale civile però c'è nel paese ancora tanta voglia di partire dobbiamo creare le condizioni condizioni migliori affinché questo possa prodursi dal punto di vista istituzionale dal punto di vista dei comportamenti dello stato delle efficienze dello stato dal punto di vista della riduzione della pressione fiscale dal punto di vista di regole più convenienti per per fare per investire dal punto di vista della protezione di chi perde il lavoro adesso poi ovviamente entriamo nel merito no di quali proposte di quali possibilità do il buongiorno a guglielmo epifani del partito democratico voglio ricordare che è stato segretario generale della cgl per molti anni dal 2002 al 2010 sì così e adesso è candidato alla camera con il partito democratico campania 1 quindi napoli e province buongiorno è un fallimento per il paese si o no che c'è una parte c'è una parte del paese che non ce la fa c'è una parte quella quella che non trova lavoro quella che l'artigiano che stretto tra il credito che manca il mercato che non c'è e c'è una parte quindi che va va tenuta vicino non so come posso dire ci sono risposte materiali lavoro l'occupazione il credito ma ci possono anche essere risposte morali cioè non sentirsi e non far sentire soli coloro che non ce la fanno parleremo anche delle risposte morali do il buongiorno a paolo sotto corona enrico vaime capisci perché non riesco a sorridere beh sì non è facile effettivamente tra l'altro è anche molto difficile affrontare questi argomenti in questi giorni perché non si può più parlare dei sondaggi elettorali per noi era una miniera era come una cava di pettegolezzi e di notizie anche interessanti certe volte ecco quindi sondaggi niente e quindi c'è la ricerca di argomenti che si possono trattare senza perdere l'attenzione e la curiosità di chi ci segue quindi si va anche sul facile si mollano dei cuccioli tra le braccia dei leader proprio per impedirli di dire delle cose non così popolari come la tenerezza di un cagnolino e poi l'altro argomento principale è un argomento più facile tagli i tagli alle tasse sui tagli alle tasse sono tutti d'accordo il che ci dovrebbe far pensare che dovrebbe spingersi a una selezione nostra nei confronti di tutti questi questi si trovano a concordare su un fatto pesante un fatto che può condizionare il nostro governo futuro ora questi sono gli unici due argomenti a disposizione perché appunto i sondaggi sono adesso proibiti per questa curiosa legge non scritta o perlomeno scritta male perché la par condicio è curiosa sembra una voce dialettale comunque insomma si può parlare però meglio se non lo si fa e se lo si fa bisogna giustificarsi e questo crea una cautela secondo me paralizzante per certi e fastidiosa per altri comunque non sapendo più dove sbattere la testa mettiamoci anche nei panni di questi poveracci che vivono di argomenti come noi per esempio di argomenti politici qui si rischia di parlare del festival di sanremo come fenomeno politico insomma io ho sentito dire che il festival di sanremo può infastidire può ma siamo impazziti oppure vogliamo scherzare immagino ora il festival di sanremo può essere bello o brutto ma che diventi un fenomeno politico in grado di influenzare una scelta come quella che siamo chiamati a esprimere 24 25 prossimi sembra un trattare tutti noi come degli imbecilli dei minus abens della gente veramente da recuperare in qualche modo perché quindi è imbarazzante stare qui a parlare dell'eterra lotta fra il bene e il male perché si finisce per arrivare a argomenti troppo grossi per noi e per tutti quindi diciamo le proposte che vengono giocate sono facilmente rituzzabili ma per modo di dire giudicando gli argomenti della nostra campagna elettorale alla quale assistiamo persino la cei la chiesa ha trovato il modo di bacchettare quanti partecipano dicendo ma cosa viene in mente di parlare di queste cose quando c'è il mercato del lavoro da risolvere il problema del mercato del lavoro sì state a parlare di queste ecco ora bagnasco non è proprio un politico praticante perlomeno non ufficialmente però è vero ha ragione voglio dire invece si brancola in argomenti come il ripristino dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori la riduzione delle tasse sul lavoro l'invecchiamento attivo che è un'altra cosa preoccupante buttata lì chissà che vorrà dire le persone di una certa età si cominciano a preoccupare hanno ragione secondo me ci sono tanti tanti argomenti che non vengono chiariti e viene perché perché non sono diciamo non sono facilmente sfruttabili per una campagna elettorale dice che non hanno appiglio non hanno appiglio non hanno insomma richiederebbero una spiegazione troppo approfondita in un momento in cui il tempo stringe ecco sono lì quindi insomma quindi è anche giustificato qualcuno che la spara grossa tipo 4 milioni di posti di lavoro ah e oh come così all'improvviso ma che è bastata la spiegazione Berlusconi che ha detto che è solo uno asficio l'ha detto qui venerdì ma infatti va presa per quello che è chiaramente una provocazione un indicare una cosa teoricamente fattibile ma praticamente irrealizzabile se ognuno dei capitani di industria dei proprietari di industria assumesse un siccome le industrie sono x si atterrebbe y ma in teoria sì certo che è un po' se le ruote della nonna insomma se la minonna ci avesse le ruote sarebbe il careto che è un vecchio adagio che in politica però bisognerebbe applicare con maggiore cautela quindi diciamo che non si brancola e si evita l'argomento del quale vorremmo forse oggi parlare dal momento che a noi la par condition non ci impedisce di affrontare questi argomenti e quindi il lavoro il mercato del lavoro i problemi del lavoro che sono tantissimi i diversi atteggiamenti delle forze politiche nei confronti dei problemi del lavoro che vanno dalle diverse proposte da quella di sacconi a quella di cazzola cioè ci sono diverse prospettive diverse soluzioni prospettate che vanno chiarite secondo me parliamo di quello invece che del festival di sanremo che può infastidire con il refrain le scelte ideologiche del paese non ci trattate da imbecilli perché attenti non lo siamo e può darsi che il paese si svegli e si rivolti contro quelli che considerano appunto queste questa presa in giro un festival di canzonette un cucciolo in braccio una frase spiritosa non sono la politica sono prendere in giro la gente un intrattenerla in vista di una gratificazione che non c'entra niente con la proposta insomma voglio dire a me piacerebbe a noi piacerebbe che qui si chiarisse se questo ritorno alla legge Biagi è fattibile se il rifiuto della riforma Fornero è riproponibile ancora se voglio dire qualcosa può succedere se ci sono effettivamente le premesse perché queste proposte che i nostri ospiti sono in grado di spiegarci sono effettivamente una prospettiva dal momento che noi sulle piazze ormai queste cose non le sentiamo più sentiamo delle arguzie delle calate dialettali delle battutacce ma non una proposta intellegibile e effettiva e definitiva perché perché forse perché non è popolare proviamo a vedere se è popolare o meno allora popolo della libertà partito democratico quindi proveremo a stare stretti su quelle che sono le proposte di questi due partiti perché secondo me facciamo un'operazione di chiarezza no vai me ci ricordava campagna elettorale in campagna elettorale ci hanno insegnato questa cosa che si raccontano un po di storie noi facciamo nel nostro piccolo una sorta di battaglia quotidiana per dire ma perché mai cioè proprio in campagna elettorale ci chiedete il voto ci dovete dire la verità proviamo a fare questo esercizio di verità a partire da questa storia che vi raccontiamo siamo andati ad intervistare il fratello di giuseppe burgherella l'operaio che si è suicidato a trapani lo abbiamo intervistato e ve lo facciamo ascoltare così facciamo un bagno di realtà e perde la dignità si può morire mio fratello è morto per questo perché le lettere per altre cose ne parlano chiaro le lettere che ha lasciato questo grido di disperazione all'istituzione e anche alla sua organizzazione è la testimonianza non dimostrava fuori la sua sofferenza fuori con la gente con gli amici con noi sì con noi non si chiudeva non dava non voleva aiuto fino all'ultimi giorni la cgelle il 25 aprile ha dato ai suoi militanti il libretto della costituzione e lui ha marcato questo l'ho visto lo posso dire ha marcato nelle parti dove dice che il diritto al lavoro la cosa che dice la costituzione sul lavoro per lui il lavoro la dignità la 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 camisetta con lo stemmino della marca bene del lui era per lui era il lavoro condizione di 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 sociale di di la viveva in questa maniera ed è da parte nostra rispettabile mio fratello era una persona non solo pulita come vede la casa era pulita anche dentro noi abbiamo avuto sempre la passione della politica di quello di di impegnarci anche per gli altri e lui nel suo stato di 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 disoccupazione di precarietà cercava di impegnarsi anche per gli altri anche per il lavoro allora con silvia mauro ci siamo fatti questo bagno di realtà non mettere in buon umore io non so voi non solo non mettere in buon umore ma io credo che ci obblighi ad interrogarci no cosa sta succedendo al paese e davvero questa campagna elettorale dovrebbe avere al centro queste cose qui dovrebbe avere al centro il lavoro e le persone che perdendo il lavoro perdono la dignità o ritengono di perdere la dignità morizio sacconi la domanda intanto è cosa sta succedendo al mondo e certamente cosa sta succedendo alla parte occidentale del mondo nella quale a mio avviso la stessa crisi economica ha ragioni ancora più profonde non abbiamo il tempo di analizzarle mi basti solo dire che quando registriamo una un inverno demografico vuol dire che in larga parte dell'occidente il benessere ad un certo punto ha condotto a perdere anche il senso il senso delle cose il senso della vita probabilmente dalla gelata demografica sono venute poi quelle conseguenze che si sono via via prodotte fino alla alla criticità specifica della finanza creativa che si è rovesciata sulle stesse economie reali in questo contesto proprio l'informazione dovrebbe aiutare il rapporto fra i cittadini e l'offerta elettorale che viene proposta dalle diverse parti politiche perché ci sono invece contenuti noi fra poco presentiamo fra un'ora il nostro piano per il lavoro che è più lavoro più salario si può esatto la conferenza stampa che con la quale presentiamo da un lato il nostro documento articolato sia in una terapia d'urto che in un percorso di completamento delle riforme di questi anni sia una bozza di disegno di legge di statuto dei lavori che appunto sarebbe questo completamento cioè il passaggio da una ormai superata regolazione complicata che inibisce la propensione ad assumere ad una regolazione più semplice che rispetta riconosce incoraggia quanto più la libera contrattazione fra imprenditori e lavoratori soprattutto nella dimensione delle imprese ma la terapia d'urto a nostro avviso deve consistere nel superare tutta la parte regolatoria della recente legge fornero che non ha funzionato e non sta funzionando la parte regolatoria è entrata un'uscita per capirci ma guardi nell'insieme la parte regolatoria non ha funzionato noi proponiamo l'abrogazione della legge tal quale. Serve che io ricordi che sia il PD che il PDL l'hanno votata questa legge? Potrei dirle che personalmente non l'ho votata facendo una dichiarazione di voto che purtroppo prevedeva ciò che sarebbe accaduto. In quel momento credo che PD e PDL abbiano fatto prevalere una ragione di stato più complessiva. Il governo poneva con forza la fiducia su quel provvedimento collegando adesso il suo rapporto con l'Europa. Io le chiedo perdone davvero non è polemica la mia domanda però ogni volta che noi rileviamo che c'è qualcosa che è stato fatto e che non andava bene adesso c'è tutta la discussione sull'IMO, sulle tasse e di nuovo la riforma Fornero. I rappresentanti dei vari partiti che quelle leggi le hanno votate ci rispondono però lì bisognava essere responsabili. Io le faccio proprio una domanda facile facile. Quando noi sentiamo qual è la condizione del paese, quando Confartigianato ci dice che ogni giorno si perdono 480 posti di lavoro, uno si chiede ma cosa c'è di più importante di questo? Cioè l'ordine superiore qual è? Forse questo è l'ordine superiore. In quel momento il presidente Monti che era stato delegato dalle grandi forze politiche a governare una situazione difficile ha in più occasioni preteso consenso e lo ha ottenuto, non è retorico dirlo, per senso di responsabilità anche se nelle dichiarazioni di voto soprattutto dei rappresentanti dei due grandi partiti erano ricorrenti le ragioni di malessere rispetto a quel contenuto. Ma abbiamo vissuto una stagione potremmo perfino dire quasi di mezza sospensione della democrazia, cioè di un normale svolgimento democratico quale io credo dovremo recuperare con il voto. Mi faccio solo dire un'ultima cosa, nella terapia d'urto però c'è anche la protezione dei cassi integrati che in questo momento è bloccata, almeno in parte, e la protezione dei cosiddetti esodati, di quelli che sono usciti dal mercato del lavoro sulla base delle vecchie regole previdenziali e che sono senza pensione e senza lavoro. Quella forte detassazione, da qui è nato il discorso dei 4 milioni di posti di lavoro teorici, ma quando Berlusconi ha proposto di detassare in modo secco e compiuto i primi contratti di qualità dei giovani, cioè apprendistato e contratti a tempo indeterminato, ipotizzando che ciascuna impresa uno lo potesse prendere in questo contesto, poi sappiamo che molte imprese non sono nella condizione non solo di assumere, ma purtroppo anche di essenziale. Adesso torniamo su questo punto, a proposito di terapia d'urto, voglio sentire però anche Epifani a partire dal fatto che ad un certo punto, ci ricorda Sacconi, si è fatto un atto di responsabilità, si sono votate norme che poi oggi tutti sostanzialmente vogliono rivedere e però si ha come la sensazione di uno scollamento, da una parte c'è la realtà e ci sono queste persone che si ammazzano perché non sono in grado di reggere il fallimento dell'impresa, della famiglia, del lavoro e dall'altra parte invece c'è la politica che un po' sembra si parli addosso, ma magari così non è, mi augurerei. Diciamo che se c'è una responsabilità dell'avvio di questa campagna elettorale che non si è posto questo come cuore centrale del dibattito. Io ho molto rispetto per la questione fiscale anche perché c'è una parte del Paese che fa il suo dovere fino in fondo e quando il reddito cale, la pressione fiscale sale, è chiaro che c'è una pressione insostenibile sui cedadini, sulle imprese, sugli artigiani. Però il cuore del problema è se riusciamo a mettere in moto la ripresa, gli investimenti, a creare occupazione, cioè noi stiamo invertendo e invece bisogna rimettere al centro questa questione. Purtroppo per i primi 15 giorni non si è fatto e in realtà questo è il cuore. Abbiamo visto adesso questo dramma della famiglia di Trapani, io poi sono a Napoli e tutti i giorni io incontro drammi di ogni tipo, giovani che non trovano lavoro, chi l'ha perso, chi lavora e non è stato pagato da 8-10 mesi dalla regione, abbiamo davvero una situazione al limite della sopportabilità. Il punto vero quindi è metterci in condizione di determinare più lavoro e più occupazione, sapendo che in questi 4 anni e mezzo abbiamo perso 750 mila posti di lavoro, che oggi abbiamo circa 500 mila persone tra cassa integrazione e mobilità. C'è un dramma e che il 2013 sarà ancora difficile. Ecco questo è il quadro, quindi dobbiamo metterci in condizione di creare lavoro. Per creare lavoro bisogna rimettere in moto gli investimenti, bisogna superare alcune strozzature, penso soprattutto al credito nei confronti delle piccole imprese e degli artigiani, perché la grande impresa ce la fa quando ha mezzi suoi propri molto importanti, dobbiamo utilizzare di più una leva pubblica per favorire investimenti, penso all'allentamento del patto di stabilità per i comuni, quelli che sono già in grado di poter cantierare delle opere di manutenzione del territorio, di messa in sicurezza del territorio. Dobbiamo agevolare attraverso forme di detassazione intelligente l'assunzione a tempo indeterminato, dobbiamo far ripartire un po' i consumi, perché noi abbiamo di fronte a noi una strada molto stretta, perché i consumi interni stanno calando, anche quelli alimentari. Le nostre quote sul commercio internazionale, cioè le nostre esportazioni, stanno andando bene, ma corriamo il rischio se si apprezza troppo l'euro, che soprattutto in alcuni mercati possiamo risentire anche di questo. Quindi ci muoviamo tra Scille e Caride, una domanda interna bassa, una domanda estera che va, ma che potrebbe in qualche modo bloccarsi. Quindi dobbiamo fare più domanda interna e aiutare le imprese che esportano. Però questo ragionamento, che detto così, persino Sacconi penso non abbia nulla da obiettare. Largamente condiviso. Ecco, benissimo. Il punto è dove si trovano le risorse e quali sono le priorità. Allora, adesso Berlusconi, ospite nostro venerdì, a proposito di questa cosa dei 4 milioni cui faceva accenno anche Vaime prima, l'aveva già detta, noi l'abbiamo compulsato su quello, lui ci ha spiegato esattamente a cosa fa riferimento. Lo risentiamo un attimo insieme perché mi interessa l'opinione di Epifani su questo. A proposito di terapie d'urto, se c'è bisogno o non c'è bisogno e se queste sono praticabili. Sentiamo Berlusconi. Con questo governo tecnico siamo arrivati a 37 giovani su 100 che cercano un lavoro. Che non è che però sono nati tutti in un anno, eh? No, ma ci siamo arrivati a 37 perché siamo passati per 35, 36, 36 e mezzo, poi 30. In un anno, no, era 26, mi dispiace, era 26, voi siete abituati a raccontare balli. No, questa è lista. Allora, in un anno abbiamo preso 10 punti. 10 punti di disoccupazione giovanile sono incontrotti. Allora, in un anno le dico, questo governo ha aumentato la cifra dei disoccupati in Italia di mezzo milione. Con questa politica abbiamo precipitato il paese dentro una spirale recessiva pericolosissima. Si sono aumentati, come dicevamo, i disoccupati, si sono aumentati i giovani che cercano lavoro e non è che con una bacchetta magica un governo dell'uno o dell'altra parte possa inventarsi 3 milioni di posti di lavoro. A me è venuta semplicemente un'idea mia, personale, originale. Ho detto, dato che abbiamo il nostro petrolio, che sono i nostri imprenditori, 4 milioni, 5 milioni di imprenditori, che se la cavano malissimo di questi tempi, una volta qualcuno li chiamò capitani coraggiosi, adesso bisogna chiamarli degli eroi. E rivolgendomi a loro e cercando di stimolare il loro senso di solidarietà, ho detto, boh, se ogni azienda italiana potesse arrivare ad assumere un collaboratore nuovo, sarebbe un grande aiuto a far trovare dei nuovi posti di lavoro. Quindi è un auspicio? È assolutamente un auspicio. Affinché ci possa essere anche una convenienza di chi eventualmente assume, ho detto, per alcuni anni facciamo sì che chi assume paghi il collaboratore senza quel di più dato dalle imposte e dai contributi che normalmente più che raddoppiano quello che va in tasca al collaboratore. Allora Epifani, 4 milioni di posti di lavoro, l'auspicio, l'abbiamo risentito apposta perché non ci siano dubbi, l'auspicio di Berlusconi che dice che le piccole e medie imprese sono il petrolio di questo paese, si tratta di eroi. Per aiutare questi eroi cosa possiamo fare? Gli facciamo assumere ad esempio una persona senza che l'impresa sia tenuta a pagare i contributi. Questo farebbe sì che si rimettesse comunque un po' in moto il paese. È praticabile oppure no? Ma vede, Berlusconi ha ai miei occhi una grande responsabilità. La grande responsabilità quando scoppiò la crisi di non capire la forza e la profondità degli effetti di questa crisi. Tant'è vero che nel primo Natale della crisi lui ebbe a dire che la crisi era già finita. Da lì la responsabilità e l'errore del governo di centrodestra che invece di promuovere quello che si poteva fare per stimolare un po' di investimenti, un po' di domanda, un po' di occupazione, ha lasciato andare le cose. Con Tremonti che diceva una cosa, Berlusconi che ne diceva un'altra, fino a metterci nella condizione del dramma prima dell'avvento del governo tecnico. Questa è la responsabilità di Berlusconi. Quando lui qui dice ogni impresa assuma un giovane, si scorda un piccolo particolare che oggi le imprese licenziano. Perché? Perché non c'hanno domanda. Non c'è nessuno che prende quei prodotti, quei servizi. Cioè il problema non è chiedere all'impresa di assumere, ma di mettere l'impresa in condizioni di assumere. Quindi se ho capito bene il tema non è se è praticabile oppure no. Il tema è a monte perché le imprese non hanno bisogno di nuovi lavoratori. Ma lui è un uomo troppo accorto, il mercato lo conosce, ce lo può insegnare. Se viene qui a dire una constatazione un po' banale come questa, in realtà lui racconta il contrario della verità. Cioè bisogna partire da quello che determina la possibilità di assumere persone, non un imponibile di mano d'opera che non ha alcun senso pratico. Non sono d'accordo assolutamente perché la politica del lavoro è politica non solo di distribuzione della ricchezza che si produce attraverso posti di lavoro e salari, ma è anche una politica che fa la ricchezza, cioè che incoraggia a fare. Tradizionalmente noi abbiamo sempre avuto poca occupazione per la ricchezza che producevamo. Siamo sempre stati contratti nel tradurre la ricchezza che è prodotta in posti di lavoro perché abbiamo sempre avuto una regolazione che ha inibito ad assumere. E' una regolazione in senso stretto e una regolazione attinente il costo indiretto del lavoro. Se per esempio la legge Biagi favorì un'impennata dei posti di lavoro nel giro di tre anni aumentò il saldo occupazionale di oltre un milione e mezzo di posti di lavoro. La legge Fornero nell'arco di un anno ha aggiunto all'andamento negativo dell'economia una contrazione di posti di lavoro. Non lo so, ecco solo io, lo diciamo insieme io e la CGL singolarmente a proposito della mancata conferma di contratti a termine, del mancato prolungamento di collaborazioni proprio per effetto di una ostile regolazione, di una regolazione inibente al rapporto di lavoro. Cioè le imprese nel momento in cui devono assumere, siccome ci sono troppe regole, siccome troppo contorto, evitano di assumere. Possono rinunciare a fare un investimento, possono preferire lo straordinario a un posto di lavoro aggiuntivo. È spesso accaduto, è ricorrentemente accaduto nel nostro mercato del lavoro questo atteggiamento a contratto. In questo momento noi dobbiamo invece cercare quanto più di tradurre le opportunità in posti di lavoro, di incoraggiare anche dal punto di vista dell'occupazione la possibilità di cogliere opportunità che spesso vengono... E questo funzionerebbe malgrado questa crisi così forte di consumi? Ovvio che contemporaneamente occorrono politiche di incoraggiamento alla crescita, ma questo ci riporta alle tasse. Le tasse non sono tema estraneo a questa campagna elettorale. Se tutte le forze politiche, anche quelle di tradizione tax spending, cioè portate a spesa pubblica e a imposizione fiscale, sentono il dovere di fare proposte di riduzione della pressione fiscale, è perché noi partiamo dall'idea che è la contrazione dei consumi interni, molto legata per esempio alla vicenda dell'Imu. L'Imu ha avuto un effetto devastante sui consumi interni. La domanda di investimenti è fortemente penalizzata dall'elevatissimo livello di pressione fiscale. Solo in un anno la pressione fiscale è salita di due punti e stava già al 42,5% ed è andata quasi al 45%. Cioè la crescita non è fatta di un piano pubblico di investimenti pubblici in certa misura, alcune opere infrastrutturali, ma anche in quel caso quanto è importante che ci sia invece regolazione più favorevole agli investimenti privati anche nelle grandi opere. Perché noi dobbiamo usare il meno possibile il bilancio dello Stato perché dobbiamo fare crescita senza caricarla sulla spesa pubblica e quindi senza mettere in discussione i profili di stabilità. Poi c'è tutta la parte del nostro rapporto con un'Europa tedesca, io anche di fronte alle decisioni di questi giorni ribadisco la nostra posizione, noi vogliamo più Europa ed Europa vera, un'Europa che salvi anche la Germania da se stessa e dalle sue profonde pulsioni che nella storia la portano quando ha un eccesso di potere rispetto alle periferie geografiche, la portano, come disse Helmut Schmidt un anno fa, la portano sempre un pochino ad eccedere. Lo stesso euro forte di cui opportunamente ha parlato Guglielmo Epifani poco fa è di da che cosa dipende se non anche da questa politica esasperatamente portata a rigore e a non guardare i profili della crescita portando a un apprezzamento dell'euro che nel mercato globale fa campare solo la Germania in questo momento, mentre fa perdere capacità competitiva alle altre economie esportatrici come l'Italia. Però diciamo a lei non sfuggirà che una serie di firme, una serie di cappi le abbiamo presi con Berlusconi, cioè le abbiamo sistemati, preparati, poi dopo le ha messi in atto Monti, ma non lo so mi viene in mente Limo, ma prima ancora il fiscal compact. Limo non era sulla prima casa, Limo non era sulla prima casa, non comprendeva la rivalutazione degli estimi catastali che è la ragione principale oltretutto dell'aumento della pensione fiscale che poi si completerà in parte, ma per un bene che non dà liquidità, perché quando io vivo la mia casa, spesso in Italia, in un paese di proprietari all'85% di proprietari, in Germania il 30% di proprietari della prima casa, vuol dire persone spesso anche povere che possiedono una casa anche al limite di valore ereditata. Si diciamo che adesso non è la puntata del Limo, perché sennò parliamo sempre del Limo e sempre delle tasse, mi viene in mente che uno può decidere di restituire Limo magari agli indigenti, se uno è proprietario di Arcor, adesso faccio una battuta ovviamente, magari sarebbe addirittura utile che non gli venisse restituita Limo. Per un caso inibiamo 100, ma in un caso anche il lavoro è tasse, il lavoro in Italia purtroppo scontenta tutti, nel senso che il salario è basso, la produttività è bassa, il costo indiretto in ordine è tasse. E qui arrivo alla domanda diretta alla quale vorrei rispondere tutti e due, siccome abbiamo detto che nessuno ha la bacchetta magica, intanto la terapia d'urto consiste in questi 4 milioni di posti di lavoro senza tassazione, no? Io le ripeto, è un esercizio che ha fatto giustamente ricordando quante sono le imprese in Italia, la nostra proposta, insisto, è di corsa nel primo consiglio dei ministri come allora facemmo con la detassazione del salario di produttività, questa volta dovremo detassare i primi contratti per i giovani, i primi contratti permanenti, cioè a tempo indeterminato o a prendistato, per 5 anni, questa è la nostra proposta, azzerare l'imposizione fiscale su primi contratti permanenti per giovani per 5 anni. E i contributi per questi giovani chi li paga? Ovviamente a carico dello Stato, cioè sono contributi cosiddetti figurativi. E i soldi dove si prendono? E' ovvio che ci sono coperture, che sono state ipotizzate coperture per queste operazioni. La scelta di detassare questi contratti è per dare un segnale, diciamo, forte, d'urto, una frustata alla propensione ad assumere giovani. La seconda è tornare alla legge Biagi, deregolare l'assurdità della legge Fornero che è sotto gli occhi di tutti, credo che se parliamo con i dirigenti di questa azienda la condividono quanto sto dicendo, e in terzo luogo proteggere davvero disoccupati, cassi integrati, esodati, cioè avere davvero risorse. Perché una cosa abbiamo certamente fatto noi in anni in cui non abbiamo per nulla sottovalutato la crisi. Abbiamo protetto, e molto, con un investimento attorno ai 60 miliardi di euro nel corso dei quattro anni trascorsi, abbiamo protetto il reddito di coloro che erano costretti all'inattività. In questo momento, mentre stiamo parlando, Epifani lo sa, molte delle casse integrazioni del 2012 sono bloccate perché si è perso in qualche modo il controllo dei conti della situazione, ma che non possono essere i lavoratori a pagare un'inefficienza dello Stato. Siccome poi alla fine ci perdiamo nel fiume, perché poi questa vicenda del lavoro richiama una serie di aspetti, perché i cassi integrati e poi ci sono gli esodati, poi ci sono quelli che perdono il lavoro a 50 anni, e poi ci sono i giovani che hanno il più alto tasso di disoccupazione, non so se siamo i primi, ma certamente siamo tra i primi in Europa. Allora chiedo ad Epifani, Sacconi pone l'accento su una proposta, adesso mi veniva una proposta shock ma richiama altro, diciamo su una proposta d'urto, come l'ha definita, una terapia d'urto, e dice il primo punto nei primi cento giorni è questo. Va bene, non va bene, il Partito Democratico ce l'ha una iniziale cosa da fare. Ma certo che ce l'ha, voglio solo dire che faccio solo una premessa, poi arrivo alla domanda. Ho detto prima che questa campagna elettorale non si è occupata per troppo tempo di occupazione e lavoro, ma è anche una campagna elettorale in cui ci sono troppi smemorati, in cui non ci si ricorda più di quello che è successo. Noi chiudiamo una legislatura, bisogna fare un bilancio di come è stato governato il Paese in questi cinque anni, con correttezza, con onestà. Tutti pensano che non hanno avuto nessun ruolo negli anni di questa legislatura e ricominciano sempre da capo, scordandosi anche delle responsabilità nel bene e nel male che si sono assunte, secondo me non si fa un atto di trasparenza nei confronti di chi ci ascolta. Quando lei ricordava ad esempio che il governo di centrodestra è stato costretto ad anticipare la logica del pareggio di bilancio e la firma del fiscal pact per ragioni di debolezza nei confronti dell'Europa, vuol dire assumersi una responsabilità che vincola la possibilità di spendere nei prossimi anni. Questo va detto perché se no sembra che cominciamo sempre da capo e ci scordiamo quello che abbiamo fatto, che è uno dei problemi della nostra relativa credibilità in Europa. Io vorrei insistere, noi poi ce la possiamo prendere in parte a ragione con la Merkel, ma noi dobbiamo pensare alle nostre responsabilità perché siamo noi che dobbiamo assumerci le responsabilità del governo di questo paese. Per quanto riguarda le proposte, ci sono due cose che vanno fatte subito come segno di lealtà dello Stato nei confronti dei cittadini. Un piano di restituzione alle imprese che hanno fornito servizi e prodotti alle pubbliche amministrazioni, che hanno pagato le tasse, hanno finito il loro lavoro e non possono restare in questa condizione. Secondo, la soluzione dei problemi degli esodati, non solo perché sono ancora tanti, io credo attorno a 150-160 mila persone, ma perché lo Stato ha un'obbligazione esattamente allo stesso modo con cui ce l'ha con le imprese che hanno fatto il loro lavoro nei confronti di queste persone, perché non le puoi lasciare senza stipendio, senza pensione, senza lavoro. Cioè è un minimo di principio di civiltà che va assolutamente fatto. Queste due piccole cose di cui parlo costano, cioè non sono gratis. Io vorrei che fosse chiaro, e stiamo parlando di miliardi di euro. Arrivo, arrivo, arrivo. Terza cosa subito che va fatta, il rifinanziamento degli strumenti della Cassa Integrazione. Perché quando noi arriviamo al giorno dopo delle elezioni, abbiamo centinaia di migliaia di persone che non avranno più finanziato il loro strumento di difesa. E quindi questa è la terza cosa che va fatta. Poi va fatta una manovra nei confronti dello stimolo dell'economia reale. Io insisto, non possiamo costruire lavoro quando l'economia reale va male. Noi abbiamo perso 10 punti di PIL, in molte regioni 10 punti di reddito. Cioè, come facciamo a creare occupazione quando andiamo indietro? Noi dobbiamo risalire. E sa perché sono principi? Come si risale? Con una terapia d'urto, come dice Sacconi, o come? Arrivo. Sa perché poi quest'anno scontiamo più effetti negativi? E in ragione, non del governo Monti, che pure qualche responsabilità, ma del fatto che la crisi si prolunga. Non si riflette mai abbastanza che la durata della crisi in sé è un fattore recessivo. Faccio un esempio. Una famiglia che ha qualche risparmio da parte, uno, due anni, tre anni, può reggere. È intuitivo che il quarto anno non ce la fa. Un artigiano che ha problemi può lavorare in perdita un anno o due anni o non ha credito delle imprese. Il terzo anno non ce la fa. Per questo più si prolunga, dobbiamo invertire il cibo. Epifani, mi appello alla sua onestà intellettuale. Intanto, quando lei dice il punto sono i cassi integrati, sono gli esodati, cioè quelle categorie debole alle quali intanto bisogna dare una risposta, cioè lì bisogna rifinanziare. Stiamo parlando di quello che va fatto subito. Sì, subito, subito. E poi lei dice che bisogna far ripartire il paese. E insieme rilanciare gli stimoli. Sì, però la domanda che io rivolgo alla sua onestà intellettuale e non al politico oggi Epifani è la seguente. Con Monti? Cioè, dopo le elezioni, con Monti vi mettete a discutere di esodati, che non ci sono neanche nel programma di Monti. Io lo voglio segnalare perché noi l'abbiamo letto. Non è vero e penso che il Partito Democratico abbia la maggioranza alla Camera e al Senato. Perché io penso che abbiamo bisogno di cinque anni di stabilità per fare i cambiamenti necessari. Poi si aprirà un confronto con il centro, ma se noi partiamo da questo voto di maggioranza del PD, io credo che diamo più stabilità e più prospettiva di cambiamento al paese. Le ho risposto? Mi ha risposto più o meno, diciamo. Mi ha risposto in politichese. Grillo tra gli imprenditori del nord-est. Voglio un telegramma da Sacconi, no? Pare che sia nato un certo feeling. Adesso la Confapi smentisce che ci sia questo appassionamento e però, insomma, Grillo è arrivato tra gli imprenditori del nord-est e pare sia stato abbastanza ben accolto. Si dice che lì potrebbe avere una risposta importante. Come avete fatto a perderli? Quella è terra di leghe di PDL. E come ha fatto il PD a non prenderli? Perché, insomma, è un fallimento per tutti e due. Però lo vediamo dopo. Un telegramma, un telegramma. Lo vediamo dopo le elezioni, però. Chi prende chi perde, lo vediamo dopo le elezioni. Adesso ragioniamo sul piano dei sentimenti, diciamo, no? Come dicevamo, chi prende chi perde, lo vedremo alla fine. Lo vediamo alla fine, d'accordo. Certamente che ci sia a nord-est, dove c'è una grandissima diffusione di imprese, e di imprese anche di piccola dimensione, ci sia uno straordinario malessere per la combinazione di banche, fisco, mercato. È evidente. Io vivo molto in quella terra e la mia terra e c'è un malessere che si taglia con il coltello, di suicidi di imprenditori ricorrenti, perché c'è anche molto un senso di comunità e nella comunità la mia stima di cui godevo nel momento in cui creavo lavoro, facevo impresa, penso che possa venire meno nel momento in cui l'impresa stessa magari fallisce o entra in difficoltà. Quindi se fosse vero che il Ligri lo fa in pieno, che cosa significherebbe per il popolo della libertà e per la letta? Io mi auguro che non sia così, perché la soluzione ovviamente non consiste mai nel perdere la testa, cioè nell'illuderci che è una sorta di cataclisma elettorale in questo caso, che dal caos possa nascere il bene. Perché il voto al Grillo sarebbe il caos? Beh, diciamo che sarebbe in qualche modo la scelta dell'incertezza, un'incognita. Allora, la fermo, poi voglio sentire anche Epifani su questo, perché se quei voti sono in giro il PD li poteva andare a prendere e sembrerebbe sempre, lo vediamo alla fine, che invece non li prenderà. Ma adesso noi andiamo in pubblicità, poi c'è poi lo sottocorona e poi ripartiamo da qui, da Grillo. Allora, ci mancavano i temporali alla giornata di oggi, stanno arrivando anche quelli, li troviamo in questa foto, vedete c'è una linea proprio abbastanza organizzata di questi temporali che hanno già raggiunto Corsica e Sardegna, qualche cenno ce n'è sulle zone del Tirreno, però questa nuvolosità sta ormai prendendo anche il sud, le piogge al centro, qualche nevicate in pianura questa mattina in Toscana, ma molte sono già passate, e poi le nevicate al nord. Su questo c'è da fare un brevissimo discorso. Le precauzioni sono doverose, va bene? Non è che voi vi mettete la cintura in macchina, arrivate a casa, ve la togliete, ah che stupida questa cintura, non è servita a niente oggi. Meno male che non è servita a niente, quindi le precauzioni devono essere prese, le scuole chiuse, le strade chiuse, eccetera, eccetera. Ciò detto, la situazione non è come è stata descritta, è un po' più normale, mettiamola così, sia per quello che riguarda il centro, sia per quello che riguarda il nord, dove nevica, in qualche caso nevica con abbondanza, ma non è la nevicata perfetta, non è la nevicata del secolo, perché allora, scusate, è la terza volta che lo dico da questa mattina, l'anno scorso, una settimana fa, inizi di febbraio, quella che cos'era. Va bene? Quindi mettiamo le cose nella giusta dimensione e prendiamo giustamente queste precauzioni, anche se poi non servono a niente. Va bene così. Allora, ciò detto, vi faccio vedere un'immagine un po' più in grande, che ci fa vedere una cosa molto bella per chi è un po' appassionato. Guardate questa onda, proprio segnata dalle nuvole, che sale sull'Atlantico, poi riscende sul Mediterraneo, qui c'è l'aria fredda che scende, qui c'è l'aria calda che sale. Quindi noi siamo interessati dall'arrivo di quest'aria fredda, neanche direttamente, perché scende sulla Spagna e poi risale verso di noi. Quindi abbiamo un freddo indiretto, tant'è che le temperature stanno già salendo questa mattina. Previsioni per la giornata di oggi. In celeste vi ho indicato le zone dove le nevicate possono arrivare a quote basse o anche in pianura, sicuramente al nord. Un po', dicevo, anche in Toscana e in Corsica, ma le temperature sono già salite, quindi si passa a pioggia. E poi il maltempo, che sicuramente prende appunto Corsica e Sardegna, poi si sposta verso le zone tirreniche, quindi qui peggiora fenomeni un po' più intensi, però le nevicate si mantengono a quote, magari collinari, ma insomma, data la stagione, non è così strano. In pianura, sulle zone del centro, Toscana esclusa, ma ne uscirà, non ci dovrebbero essere. Poi i venti sono molto forti, ve li faccio vedere molto velocemente, ma sono meridionali ovunque, si sposteranno sull'Adriatico forti con questo scirocco e poi comparirà il nord forte. La rotazione, come vedete, è anti-oraria, tipica della bassa pressione che è presente in questo momento sull'Italia. Velocemente vediamo la giornata di domani, in cui comincia a migliorare sulle zone di nord-ovest, ma un po' anche stasera direi. Restano le zone di nord-est, il sud con maltempo marcato e un certo miglioramento anche sul medio versante tirrenico, qualche pioggia residua fra Corsica e Sardegna. Mercoledì ancora un po' meglio. Resta una zona sul nord-est, sul versante adriatico, dove ci possono essere delle piogge. Le nevicate in pianura non più, appunto perché le temperature salgono di almeno 3 o 4 gradi nei prossimi due giorni. Questo ci leva dalla zona delle nevicate abbondanti in pianura. Sui rilievi ovviamente questo c'è. E vi faccio vedere, per quello che riguarda soltanto il nord, questa era la situazione prevista questa mattina. Allora in bianco nessuna precipitazione, in blu le piogge, in verde le nevicate, parliamo di pianura. Quindi comincia dalle zone di nord-ovest, questa era la situazione prevista per le sette. Vediamo quella successiva, estensione delle nevicate in pianura, sull'alta Toscana, ma in Toscana questa è prevista intorno a ora di pranzo. Vedete come le piogge comincino a risalire con l'aria calda, quindi scacciano un po' le nevicate in pianura. E l'ultima immagine è quella prevista per le 18 di questa sera, in cui vedete in bianco comincia già a smettere, in qualche caso vicino alla Liguria, e poi le piogge che prendono la Romagna, parte del Veneto, quindi risale un po' l'aria calda, si passa da neve a pioggia. Chiaramente oggi al nord, strade e tutto quanto, Liguria compresa, dove sta nevicando con una certa, come dire, allegria, nel senso che ne fa abbastanza, quindi fate un pochino di attenzione, evitate di prendere la macchina se non è necessario. E basta, le dette tutte. Mettetevi a lasciare, no, non lo dirò mai. Allora, ci eravamo fermati su Grillo, poi ci sono moltissime mail che ci mandano da casa, quindi vi chiedo di essere veloci nelle risposte, così ne possiamo leggere diverse. Epifani non aveva ancora dato la sua di osservazione. Insomma, Grillo arriva a Vicenza, riempie la piazza, poi indipendentemente dal voto c'è un interesse. Grillo è un movimento che si è costruito in questi anni, secondo me appartiene a un problema patologico della nostra forma di rappresentanza democratica, cioè il partito e il movimento personale. Noi siamo l'unico paese in Europa e tra, credo, nessuno al mondo in cui esistono una maggioranza di partiti o movimenti personali che ai miei occhi hanno due difetti. Sono i più antidemocratici e secondo non hanno nessuna visione del futuro. Noi abbiamo un problema... Qualcosa vale anche per Monti, eh, mi permetto di rilevare. Guardi che la mia opinione non... Io insisto, noi abbiamo bisogno di sistema politico più forte, con partiti veri, che hanno radici, che hanno valori, che siano capaci di essere trasparenti e di riformarsi. Tutto quello che è movimento partito personale, quando supera una certa soglia, rende più fragile la nostra democrazia. Grillo rappresenta e vuole interpretare un movimento di protesta e di esasperazione che c'è nel paese. Assolutamente vera, è una condizione che esiste e che va guardata in faccia. Le risposte di programma di Grillo ci portano in un baratro, tutte, dall'Europa fino in giù, se noi guardiamo i punti del programma, e per quello che mi riguarda ci sono due nodi che non riesco a mandare giù. Quando lui attacca le sedi della democrazia rappresentativa, vorrei chiedergli come lui pensa che possa esistere una democrazia senza Parlamento e senza partiti. E secondo, quando lui dice aboliamo i sindacati, perché io conosco un assolo modo nella storia di abolire i sindacati, fare a meno della democrazia dei parlamenti, perché in democrazia gli unici che possono abolire i sindacati sono i cittadini, i lavoratori che sono iscritti ai sindacati. Se io le domandassi come si abolisce una bocciofila, lei cosa mi risponderebbe? Non si può abolire, perché sono coloro che giocano a bocce che decidono se voglio continuare a giocare a bocce. Per questo, quando uno dice aboliamo i sindacati, più grandi, meno grandi, non importa, dice una fesseria enorme, perché gli unici che possono avere questo potere sono esattamente i lavoratori. Piergiorgio Sassara ci chiede, Purtroppo in Italia è la politica che ha fallito, tornando sulla domanda iniziale, il commerciante che si è tolto la vita scrivendo, io lo voglio ricordare, perché non lo so, io sono molto inquietata da questa cosa, che scrive sono un fallito, e lui dice in Italia è la politica che ha fallito, sta facendo fallire tutto il nostro paese, si fa spicciola propaganda. Nonostante il servizio su quel tragico suicidio, si rivolge a voi e dice, ci dite soltanto che bisogna detassare i giovani, ma i 480 che perdono il lavoro ogni giorno e che non sono giovani, cosa devono fare? Oppure fino a che età si è considerati giovani? 50 anni? Va bene dare lavoro al figlio ventenne se papà 55enne non lavora più, perché questo è l'altro dei problemi di questi tempi, no? Ma vedi, noi abbiamo parlato molto dei giovani perché è evidente che c'è uno straordinario problema di disoccupazione e non occupazione giovanile. Se io penso nel mezzogiorno... Uno su tre. Se io poi penso nel mezzogiorno siamo quasi alla metà. La metà. Poi abbiamo il fenomeno nuovo, quello dei 50-55 anni che perdono il lavoro per tante ragioni, ma nelle politiche di sostegno al recupero di lavoro non c'è soltanto misure che sostengono attraverso, ad esempio, l'uso dell'apprendistato che è già detassato, decontribuito e che va stabilizzato con un aiuto fiscale. Ma ci sono anche misure di rientro al lavoro di chi perde il lavoro. Ma però, la vera questione, io insisto, se noi non creiamo lavoro, noi non risolviamo nel problema dei giovani, nel problema dei 55 anni. Cioè noi dobbiamo metterci in condizione di creare lavoro. Lei prima mi diceva delle proposte. Io quando dico allentiamo il patto di stabilità dei comuni, sa che cosa vuol dire? Noi abbiamo 8.000 comuni in Italia. Ammettiamo che metà di questi comuni, escludo quelli proprio piccoli, metà di questi comuni siano in condizione, perché è così, di avere progetti di investimento già pronti e risorse per poterlo fare. Se noi rendiamo possibile questi investimenti su 4.000 comuni, metti che facciamo 50 posti di lavoro per ognuno di questi comuni, ma si rende conto di che volano possiamo dare? Subito, in due o tre mesi, perché noi non possiamo aspettare ancora due anni che arriva la riprenda. Come facciamo ad allentare il patto di stabilità? Si può fare, si rinegozia solo su questo aspetto con l'Unione Europea. Cioè bisogna andare a parlare con la Merkel. Ma si può anche forzare, perché in realtà non è che aumenta la spesa pubblica, aumenta l'investimento legato alla spesa pubblica. Perdonerà Epifani la semplicità del linguaggio. Però la Merkel, che sembra molto favorevole al fatto che torni Monti, sembra meno favorevole al fatto che ad un certo punto alla guida del paese ci sia Bersani. Non voglio neanche parlare Berlusconi. Però anche rispetto al Bersani qualche dubbietto ce l'ha, mi pare. Io penso che chi decide, chi governa sono gli italiani e per fortuna che è così. Perché adesso grande rispetto per la forza della Germania, per quella democrazia, per quel modello. ma non è che ci dobbiamo tutti diventare cittadini tedeschi. Perché se fosse così dovremmo votare anche noi. E allora magari invece della Merkel io preferirei il socialdemocratico. Io vorrei dire ai signori politici nelle cui mani dovremmo mettere il nostro futuro che ci dovrebbero dire il 26 febbraio cosa faranno per gli 8 milioni di poveri di cui una gran parte non avendo più reddito sarà costretta a non pagare il mutuo non pagare l'affitto non pagare il canone tv il bollo le tasse comunali per non parlare della sopravvivenza della propria famiglia. Queste persone diventeranno i vasoli fiscali da perseguire con Equitalia a scriverci Alberto Soccini. Noi tutti i giorni praticamente mandiamo questo cartello degli 8 milioni di poveri che corrispondono al 14% della popolazione italiana. La povertà relativa diciamo perché poi quella assoluta copre invece un'altra fetta ancora. però povertà relativa 8 milioni di persone che appunto ci chiede Alberto Soccini come pensate di risollevare? Vede se è vero che l'85% delle famiglie possiede la prima casa l'idea della restituzione dell'Imu prima casa cioè di una spesa di 4 miliardi che non costituiscono una cifra impossibile per una manovra di spesa e di corrispondente ovviamente garanzia della stabilità di bilancio questa idea questa anche questa terapia turto potremmo classificare potremmo definirla serve a immettere liquidità attraverso le famiglie nell'economia con beneficio per le famiglie con beneficio per l'economia per i consumi interni per quei consumi che abbiamo visto crollare nel corso soprattutto di quest'anno l'Imu ha consentito di raccogliere 6 miliardi in più rispetto alle previsioni almeno secondo il preconsuntivo perché il consuntivo vero il governo non lo sta dando il che mi induce a qualche sospetto che possa essere ancora maggiore il riscosso attraverso questa imposta già lì c'è la copertura dei 6 miliardi perché rinegoziando con i comuni il patto di stabilità e rinegoziandolo non per tutti in modo uguale però io vengo da una terra che ha sempre visto la gran parte dei comuni avere un equilibrio di gestione avere pareggio di bilancio o avanzo di gestione io ho aziende sanitarie come quella da cui vengo che hanno 12 milioni di avanzo di gestione e pagano i fornitori a 60 giorni tra parentesi bisognerebbe allentarlo per quelli più virtuosi per capirci tra parentesi perché ci fanno segno che in Italia non la terra e abbiamo finito il tempo mi faccia dire quando si vuole si può non è che a Conegliano sono marziani se hanno l'asl che chiude a 12 milioni di avanzo di gestione e pagano i fornitori a 60 giorni e danno un buon servizio alla comunità o se da noi i comuni sono in equilibrio quindi è possibile dare una risposta immediata non lunga cioè alcune azioni d'urto si rendono necessarie nel momento in cui c'è una spirale negativa che devi in qualche modo spezzare che devi in qualche modo spezzare non sono queste possono essere altre in ogni caso ciò che mi sento di escludere è di fronte a questa spirale un percorso ordinario io mi permetto di obiettare e lo abbiamo fatto anche con Berlusconi quindi lo ribadisco con Sacconi che plausibilmente dentro quegli 8 milioni non ci sono tanti tanti proprietari di casa magari gente che la casa se la sogna per tutta la vita no l'80% delle famiglie ha la casa ma non è segno la casa non è segno di ricchezza no 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 c'è quel 14% non sono certa conosco molti poveri proprietari della casa io temo che quando anche la casa l'avessero se sono in povertà vuol dire che non possono neanche pagare il mutuo magari il problema è della banca e non loro allora ci fermiamo però perché davvero se no mi picchiano proprio li vedo c'è Claudio Pizzuti che quando arriva il produttore vuol dire che davvero siamo fuori tempo massimo grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi grazie a voi grazie davvero qualcosina di più abbiamo capito quindi magari abbiamo fatto un buon servizio per chi ci ascolta noi ci vediamo domani come sempre con Sotto Corona e con Vaime arrivederci a presto a presto a presto a presto